ciao 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 è Lara oddio guarda no se la sta se la sta abbracciando l'amore finalmente oddio ma guardatele è Lara tua amore vai 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 spetticare è spetticare guarda quanto come ti guarda hai visto il frigo nuovo? quanto è bello aspetta ma glielo faccio vedere vai dentro dove ci sta quello sta qui sta qui la sopra quello nero e sai cosa esce da qui? il ghiaccio che ne pensi dell'acquario? è bellissimo è bellissimo? un po' più piccolo un po' più piccolo no vabbè ma guarda Zoe si ma attenta perché pesa parecchio è amore mio guarda la riempie di baci oddio com'è contenta guardalo guardalo guardano i bacini ma la porta mamma la porta e no rientra le nonni credo i cani stanno in macchina ho stato fatto molto con i cani e immagino guarda la maglietta oh madonna quanto gli sei mancata guarda quanto si vede che la differenza di colore è il ringo bellissimo il colore preferito tuo nero mamma mia che bello due uno che ne pensi dolcezza che ne pensi? ti piace? non so dove guardare hai la sedia a gatto? questo è il tuo nuovo le orecchiette a cup no ha la cupia ha orecchietto da gatto guarda quanto è bello posso provarlo? certo che puoi e sai che cosa c'è sopra? roblox minecraft guarda su in alto che bello ma cosa sono queste cose bellissime? i stickers amore solo che si staccano devo metterci una polla speciale sopra che ne pensi? eh? io si ma non vedi che sopra ogni muro ci stanno? guarda sei piena di questi è tutto guarda tutto pieno quello è instagram perchè anche questo è youtube guarda youtube questo che fanno col cuore momento padre figlia comunque penso che gli sei piaciuta contentissima guardate la mia piccola gamer oddio aspetta aspetta che brava che ti togli le scarpe bravissima non voleva salire sul suo nuovo tappeto con le scarpe Lara guarda anche qui ci stanno amore mio che ne pensi di questo? ti senti più al sicuro qua dentro? è la tua casetta? si zoi pure vuole? sto cadendo zoi pure vuole giocare hai visto? lì hai tutti i tuoi libri così fa pipu 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 o sennò lo spello non puoi prendere le luci zoi qui è con i cubi quindi se tu premi stai qua sotto però devi rimanere eh qui è con i cubi invece se premi qui quello al centro mettilo più vicino qui perché esce l'acquetta? quando non lavi più stacchi qui invece guarda qui cubi quindi è tipo così guarda tritato questo è ghiaccio tritato momento intervista Lara allora ciao Lara ciao come stai? bene in questo momento hai due squali dietro che ti guardano? eh sì lo so cosa hai pensato appena hai visto questa stanza? appena ho visto il forno non me l'aspettavo perché non me l'aspettavo il forno qua però in realtà lì è più bello perché c'è più spazio e non c'è più il mobile non c'è più il mobile nero? e tu che cosa hai pensato quando sei entrata nella stanza per la prima volta? questo? sì che bella e preferisci l'exo? ah il forno è molto bello perché è ghiaccio però io l'aspettavo un po' più piccolino eh l'hai detto anche come sei entrata ti aspettavi che fosse molto più piccolo eh ciao nooo non mi aspettavo tutto questo a Lara piace un sacco la vetrinetta ok? perché c'è lì poi lì lo stesso c'è la mia foto nella mia foto di Zoe è vero è vero è Lara questa qui è Lara Lara Zoe con Ale io Lara e Zoe allora adesso parliamo di... Asche no non di asche Zoe non dobbiamo... Asche no non parliamo di asche parliamo di altro Asche parliamo della tua stanza cosa hai pensato appena sei entrata? Asche no Zoe non dobbiamo più traslocare tranquilla non gli piace questa stanza le cambieremo presto Zoe che il gatto ce l'ha rovinata tranquilla che fai ti gratti come Baloo la testa ah cioè ti batti da sola e piangi da sola? ah va bene la cosa che più ti ha lasciata tipo della camera? il letto il letto perchè? perchè avevo le lucine e quella capanna di Elsa e ti è piaciuto tanto? si? e quindi per te è più figo? ok adesso la domanda perchè sono anche più protetta sei più protetta? la mia casetta la tua casetta ora stavo andando in camera mia a giocare con il computer con le cuffie da gatto ciao alberto vado del mio mondo ahahah